Musica Allora quella lì è una di quelle che abbiamo ascoltato, non c'è l'istante, dovevamo ora tentare. Buongiorno Ekba, siamo pronti con il nostro ospite di quest'oggi che è un personaggio davvero importantissimo. Si sente, è giusto che ci sia, perché comunque sia Ducati che io abbiamo deciso di fare questa cosa insieme.